Ciao ragazzi, siamo Svolta Studenti e vogliamo parlarvi un po' di noi. Innanzitutto chi siamo? Beh, oltre ad avervi regalato tanti cuoricini, siamo un'associazione apartitica, no profit, fatta da studenti e per gli studenti, dinamica e propositiva, che ha come riferimento le Students' Union di stampa anglosassone. Siamo ragazzi che in un'università abbiamo scelto non di fare politica spiccia, ma di rappresentanza. Vi chiederete perché noi? Perché siamo diversi da tutti gli altri, perché non ci piacciono ideologie preconfezionate o assolute, che vincolino o indirizzino le nostre scelte. Non siamo legati anche al partito politico né alcun gruppo religioso. Siamo diversi perché dal nostro punto di vista sono le vostre idee e il nostro obiettivo è quello di realizzarle. Abbiamo un progetto e una visione per l'università. E quello che facciamo è costantemente rivolto al futuro, così da migliorarne il presente. Il nostro progetto è una visione di università semplice e divisa in quattro punti. Meritocrazia e pari opportunità. Opportunità e servizio agli studenti. Community e formazione e cultura. Su questa linea abbiamo già speso molte delle energie degli ultimi tre anni, realizzando il Fondo per il Merito, rendendo l'università aperta non come un ufficio dalle 8 alle 17, ma sempre come culla dell'intelletto, perché la creatività non ha orari. Organizzando più attività di tutte le altre liste, viaggi, sport, cine aperitivi, coinvolgendo oltre 5.000 studenti. Inventandoci corsi di alto livello a costo bassissimo, che mai erano stati erogati in università. 3D Studio Max e GMAT su tutti. Per i prossimi anni porteremo avanti il nostro progetto, istituendo borsi di studio per i top student di ogni scuola, ampliando l'idea di un'università aperta 24 ore, allungando gli orari delle biblioteche e tenendo sempre più aperti anche i campus distaccati. Adoperandoci per la semplicazione delle pratiche delle segreterie, monitorando il servizio mensa, migliorando la qualità e abbassando i prezzi. Convongendo tutti gli studenti in attività sportive, quali calcio, sci, ma anche beach volley, squash e basket. Allargando l'offerta dei corsi, con un occhio anche agli studenti che ancora non ne hanno usufruito. Rafforzando il network tra tutte le associazioni e tra gli studentati, come risorsa imprescindibile per il Politecnico. Tutto questo perché crediamo nel merito, nella cultura e nella formazione di un individuo a tutto tondo, nell'intelligenza e nel valore delle persone, nella possibilità di migliorare l'ambiente in cui viviamo, perché sogniamo un ruolo sempre più attivo degli studenti nella creazione di un'università futura. Noi, studenti di oggi, saremo la classe dirigente di Romani. Purtroppo tre minuti non bastano per parlarvi del vulcano di idee e delle emozioni che ci frugliano in testa, per poter realizzare però tutto questo abbiamo bisogno delle tue idee e nel futuro, il 13 e 14 aprile, scegli l'arancione, la vitamina C contro i malesseri dell'università. Scegli Svolta Studente. Scegli Svolta Studente.